Ho scelto il suo rorsola perché mi hanno sempre parlato molto bene, infatti mi hanno detto che i professori sono bravi e è un'università che dopo porta ad avere sempre un qualcosa da fare. Il corso a cui sono interessata credo sia scienze dell'educazione poiché voglio diventare insegnante, solo che non sono ancora sicura, quindi non so. La professoressa è stata molto chiara, infatti ha molto risposto alle domande che mi facevo mentalmente, però poi avrei fatto sicuramente in segreteria o in un altro corso. Sono interessata perché ho fama di essere un lavoro all'università e non sono impresa da scienze della formazione primaria in quanto voglio diventare l'insegnante dell'asilo e questo mi sembra molto malissimo.